Si chiama Superbonus 110% Verità e Ingani del titolo dell'incontro che si svolgerà domani ad Ascoli Piceno. Chi saranno i relatori e che cosa verrà trattato nello specifico? I relatori sono Fabio Conditi, l'ingegnere Fabio Conditi, vicepresidente dell'associazione Moneta Positiva e ideatore del progetto stesso, ideatore del progetto 110%, e vicepresidente della stessa associazione Stefano Di Francesco. per affrontare questo tema così attuale e così scottante in questo momento. Quindi si cercherà di fare un po' di chiarezza? Si cercherà di fare un po' di chiarezza, come dice chiaramente il titolo, Verità e Ingani. Verità perché in realtà quello che ci teniamo a far sapere è che l'ideatore del progetto, l'ingegnere Conditi, ci tiene a chiarire che la sua idea progettuale nasce da una considerazione di tipo economico e il progetto inserito all'interno di un piano più esteso aveva la finalità, ha la finalità proprio di cercare di recuperare un aspetto economico e rilanciare le imprese, l'impresa Italia attraverso le imprese edilizie. I diversi modifichi, i diversi rimaneggiamenti che sono stati applicati al progetto hanno modificato un po' questo stato e ridotto le sue potenzialità fino a creare un certo tipo di problematicità. Quindi ci teniamo a far chiarezza a questo riguardo, cosa doveva essere il progetto, cosa poteva essere dal punto di vista economico e fiscale, non dal punto di vista tecnico edilizio e cosa invece è diventato, cosa è successo. Quindi si farà un primo quadro dello stato attuale di questa proposta. Da chi è organizzata l'iniziativa e dove si svolgerà? L'iniziativa è organizzata dalla nostra associazione, un'associazione culturale Francesco Sabili che è un'associazione di recente costituzione mantenuta da un gruppo di attivisti liberi cittadini che hanno la volontà, la volontarietà, lo scopo e l'impegno di recuperare i valori del territorio e di diffondere informazioni per creare una partecipazione, quindi costruire una comunità consapevole e partecipata. Si svolgerà ad Ascoli Piceno presso la Pinacoteca Civica Sala della Vittoria a partire dalle ore 18 di venerdì 24.